La droga Carissime amiche e carissimi amici Buon pomeriggio alla Lago di Mezzola Siamo qui io e la Giocherellona Qui in Valtellina Ci stiamo godendo questa domenica Molto posteriore a Ferragosto E stavamo pensando Di parlare di Youtube anche io Youtube anche io Questo ragazzo, quest'uomo che è venuto a mancare Di 42 anni I cui video hanno veramente spopolato Video che erano pochi Comunque rispetto ovviamente al numero di visualizzazioni E noi oggi andiamo Praticamente a parlare Del perché questo ragazzo Quest'uomo di 42 anni Che appunto è deceduto E' stato definito come il più grande maestro di Youtube Per quale motivo? A Youtube anche io ero una persona Che amava mangiare Amava descrivere minuziosamente I piatti che mangiava In una maniera molto pacata ed elegante Ma la cosa negativa E che mangiava tantissime quantità di cibo E quindi diciamo Da persone come me O altre persone che comunque Tendono a dire Si è vero ci sono gli sgarri alimentari Ma La vita dovrebbe essere in primis fatta Mangiando frutta e verdura Soprattutto a crudo Youtube anche io Sicuramente non era il modello da seguire E allora mi chiedo Come mai tanti ragazzi Abbiano detto Youtube anche io Grazie a Dio maestro Grazie di tutto quello che ci hai dato Giocherirona tu che ne pensi Di le persone che fanno più del dovuto Trasformando le necessità in vizi Ragazzi oltre alla doccia Salivare che la Giocherirona mi ha fatto Con questa risata Diciamo che io credo A parte il ginocchio sexy Della Giocherirona Che viene qui inquadrato Direi che Persone che comunque Mangiano più del dovuto Sicuramente non sono modelli da imitare Youtube anche io Mangiava più del dovuto Quindi sicuramente una persona che Era molto diciamo Simpatica da vedere Faceva compagnia anche Un amante degli eccessi Un amante degli eccessi Pensate che una volta La Giocherirona aveva un'amica Che era amante dei eccessi E ovviamente i gabinetti E quindi Pensavo a questa è un'altra storia Diceva infatti vicino a Giocherirona Mi voglio fidanzare Mi voglio sposare Voglio andare all'agenzia matrimoniale Anni 16 Va bene ragazzi E quindi praticamente Tornando a Youtube Ve lo ricordate Praticamente che Youtube Aveva Era amante degli eccessi alimentari Youtube è morto Praticamente A quanto ne so Perché a seguito di un ricovero Per una caduta Gli è venuto un infarto Beh diceva Ippocrate di Col Il grande medico greco Diceva che Secondo me Secondo me Gli è venuto un infarto Quando ho capito Che in ospedale Avrebbe avuto solo la minestrina Questo Giocherirona è molto sadico Come frase Lo sai questo Lo sai che questo 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 Youtube Non è un altro tipo Verrà censurato No censurato non so Però io credo che Molti fan di Youtube Anch'io potrebbero Potrebbero lasciare qualche commento Fortemente negativo A seguito Lo accetterò E potrebbero volere il confronto Con te dal vivo Pensa un pochettino Pensa che Youtube Anch'io è talmente famoso Che ha avuto 40.000 mi piace Sotto il video della morte Gente che lo salutava Addirittura Perché c'è anche il video della morte C'è il video Il video che ricorda Quella che è stata La grande vita di Youtube Anch'io E i suoi consigli virtuali Dati esplicitati Tramite Pensa un pochettino Pensa tramite Youtube Appunto Youtube Anch'io Pensa che nome Tu ti saresti chiamata Youtube Anch'io Ma non è male come noi Molto simpatico Infatti è originale Va bene ragazzi Che dire Youtube Anch'io Ci mancherai Ci mancherai per la tua diplomazia Ci mancherai per la tua compagnia Ma per quanto mi riguarda Non mi mancherai nel senso Comunque io non lo conoscevo Sottolineiamo Meno male Quindi te l'ho fatto conoscere io E vedi In coppia Abbiamo fatto un'altra cosa insieme Detto questo ragazzi Non prendete sicuramente a modello Il percorso alimentare di Youtube Anch'io Che poi ha ricevuto anche fortissime critiche Infatti poi gli ultimi video Erano di fine 2019 Se ben ricordo Non aveva più caricato niente Ma andate per una strada Di attività fisica Riposo E buona E corretta alimentazione Soprattutto a base di vegetali crudi E per il resto ragazzi Che dire Modello da seguire Dal punto di vista diplomatico Di Youtube anche io Di simpatia Ma sul piano alimentare Per quanto ci riguarda Credo che la giocherellona Su questo sia in linea con me Direi di no Ciao a tutti ragazzi e ragazze E soprattutto iscrivetevi ai nostri canali Lì su Twitch Youtube E noi Youtube anch'io Discord Telegram E blog E Facebook Vi aspettiamo Buonasera Il catalogo di Mezzuola Ah non mi fai neanche salutare Saluta 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 Giocherellona Scusa Saluta 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 Le tue fans Questo è il saluto Ciao 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 State attenti Non inciampare Su cosa? Sulla cacca? Qualsiasi cosa Vabbè Sull'età Ciao Ciao